super e notto se c'è un argomento che mi fa più imbestiaire in assoluto non so voi ma io ho amici colleghi che ogni volta che prendono l'autostrada e vanno in vacanza quando fanno un pit stop una piccola sospa in autogreen giorno al gratinino oppure comprono una schedina win for life twist per sempre tutte queste cose qua non so voi ma io sto alla lavora da queste cose se siete come me bravi mi piacete se conoscete qualcuno che invece ha questa mania di giocare ogni tanto al super navotto anche a te vinci fatevi vedere questo video io non ho convinto di amici ma spero di convincere voi che mi state guardando che non conviene assolutamente giocare vi do tutti i motivi oggettivi e matematici per non farlo ma dopo la sigla ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi vi voglio dire perché non conviene giocare al super navotto ma prima facciamo un po il punto della situazione per chi non lo sapesse solo 10 milioni le persone che ogni anno giocano almeno una schedina al super navotto ho letto un articolo giorni fa che diceva che le scommesse gratini in chief fanno tornare gli incassi del gaming ai livelli pre covid nel 2022 i giocatori hanno speso oltre 19,6 miliardi di euro 19,6 miliardi di euro non so se sapete quanti sono all'alma in italia per chi non lo sapesse season è la nota azienda italiana che opera nel settore dei giochi e delle scommesse fondata nel 1946 cesar ha una grandissima storia nel mercato del gioco d'azzardo e offre una vasta gamma di prodotti e servizi mi sono informato un attimo perché davvero io ne conosco pochi e giusto per darvi un po di info inizialmente cesar è stata conosciuta perché i suoi vignetti gratte vinci ma negli anni ovviamente ha pensato bene di espandersi e ampliare il suo mercato oggi cesar gestisce vari servizi di giochi scommesse tra poi le lotterie le scommesse sportive i giochi online come il casino in poker e altri giochi da tauro e cingina sulla torta ha fatto anche un'app chiaramente viviamo nell'era in cui noi senza questo non andiamo da nessuna parte abbiamo un milione di app scaricate in cellulare forse io ne ho soltanto 4 ma non faccio testo qv o questo fa di tutto e ovviamente hanno fatto un'app anche per i giochi tramite l'applicazione per poter giocare è necessario avere un conto di gioco così lo chiama e ha tutti gli effetti un conto a cui è associato il tuo conto personale è inutile dire che questo tipo di giochi hanno attratto sin da subito tantissime persone attratti dal fatto che le cifre messe in palio fossero elevatissime ho guardato proprio oggi a quanto monta il jackpot e effettivamente è una bella città parliamo di 26 milioni 600 mila euro come se non bastasse se andate nel sito www.superenalotto.it vedete una bellissima pagina di sisal che ti invita a giocare e vincere nel monte primi perché sembra perché sembra davvero così semplice ma ora veniamo alle cose serie calcoliamo insieme qual è la probabilità di vincita quello che voglio fare ora è mostrarvi perché non ha senso giocare al superenalotto è un gratte vinci o qualsiasi altro gioco che si sono inventati che si inventeranno nel futuro quando gioca e giochiamo un gioco che può essere un gioco a carte a poker oppure appunto al superenalotto noi dobbiamo sempre distinguere tra tre tipi di giochi gioco equo gioco favoribile gioco sfavoribile non vi sto a spiegare cosa significano perché le tre parole parlano chiaro vi mostro oggi come mai il gioco del superenalotto non è al fatto equo ovviamente questi giochi devono fare incassare le tasche del banco quindi non sono mai a favore del giocatore ma sono sempre a favore del banco in questo caso della società che li mette del resto stupidi non sono non creerebbero mai tutti questi giochi se davvero rischerebbero di perdere così tanti soldi cosa dite allora in questa tabella vi mostro esattamente quanto puoi vincere al superenalotto e con quale probabilità quindi voi sapete che per vincere al superenalotto io posso azzeccare due numeri oppure tre numeri oppure quattro cinque o sei numeri chiaramente se indovino tutti i sei numeri su i sei giocati si fa il famoso jackpot il che vuol dire che vincete l'intera cifra che ad oggi ammolta appunto a 26 milioni di euro la probabilità di vincita del 2 è in uno su 22 che così non dice nulla quindi cavato in termini percentuali parliamo del 4,5 per cento la probabilità di individuare dei numeri sempre termini percentuali corrisponde al 0,3 per cento la probabilità dei quattro è 0,008 per cento e ve lo dico non sto approssimando e non mi sto inventando questi numeri quindi se non ci credete fate i calcoli con la calcolatrice lo so che sono bassi e visti così sembra davvero assurdo ma effettivamente è così ma continuiamo la nostra scamata e fino arrivare al 6 numeri indovinati quindi vediamo qual è la probabilità di fare questo mitico jackpot e chiaramente la mia calcolatrice mi dà una notazione scientifica del tipo 10 alla meno 6 quindi 0,1 per 10 per 10 alla meno 6 per cento quindi la probabilità è davvero davvero bassa se proprio non sapete dove spendere il vostro euro perché parliamo di un euro datelo a vostro figlio che magari va a vendere limonate ai vicini di casa e sicuramente la probabilità di tornare con 5 euro è molto più alta di quella che giocare al superenalotto queste sono le probabilità quindi chiaro che la probabilità di azzeccare due numeri è tutto sommato alta parliamo del 4,5 per cento ma la probabilità di fare 6 quindi dipingere il jackpot è bassissima ma ora parliamo di gioco equo perché se il gioco fosse equo allora già mi potrebbe stare bene è vero che la probabilità è bassa ne sono consapevole io voglio più giocare il mio euro quindi facciamo questi calcoli questa tabellina vi riepiloga la situazione tra il banco e il giocatore il giocatore fa un euro per giocare la schedina questo vuol dire che se perdo perdo un euro quindi meno 1 mentre se vinco vinco una quantità chiamiamola v meno un euro che ho giocato quindi se ipoteticamente io vincessi questi 5 euro come c'è scritto lì in realtà ne vinco 4 perché 1 l'ho speso per giocare la schedina la probabilità di perdita è 21 su 22 e la probabilità di vincita abbiamo detto è 1 su 22 affinché il gioco sia equo il valor medio deve essere zero se lo sapete cos'è il valor medio vi ricordo che ho una playlist sulle sulla probabilità e in particolare nel video ad hoc per voi che parla proprio di valor medio e varianza quindi dato per scontato che sappiate la formuletta dobbiamo fare questo calcolo dovrei guadagnare 20 euro e invece domenica 5 per cui non è affatto equo fate questo stesso calcolo con la probabilità di vincita di indovinare sui numeri e vedrete ancora di più che in realtà il gioco non è equo fatelo da soli se avete difficoltà potete comunque scrivermi e se volete faccio un video ad hoc o comunque ve lo scrive so già che qualcuno di voi potrebbe dire ogni tanto il telegiornale riccono che hanno vinto spendo un euro potrò rischiare un euro per magari vincerne 500 mila anche se non faccio 6 se non giochi non vinci mai questa è la presione di tutte anche se giochi non vinci mai ah no scusate perché c'è sempre qualcuno che altri giornali dicono che vince allora parliamo anche quindi numeri concreti e chiari sono andata a cercare le vittorie degli anni passati chiaramente sul sito ufficiale trovate che nella storia del super narotto il monte premi ha ragionato cifre da record dare uno sguardo alle 15 vincite più alte della storia e qui trovate tutte le vincite che ci sono state negli anni quindi cos'altro dire questi sono i dati alla mano spero di non avervi annoiato troppo con questo video penso che sia durato davvero tanto scusatemi ma quando parliamo di super narotto schede gratte vinci io esco fuori di testa e devo dimostrare in maniera chiara e precisa come mi piace fare sempre che non conviene giocare mai fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate come sempre mettete un like iscriviti al canale e attivate la campanella per oggi è tutto e alla prossima